Ecco il padre Luis Marti, anche durante la discussione della chiesa, tutti e due i professori hanno indicato alcuni punti da migliorare, poi talvolta hanno indicato alcuni elementi fondamentali da rivedere, però allo stesso momento abbiamo sentito che tutti e due i professori hanno dato giudizio positivo, siamo andati adesso a discutere, però siamo tutti d'accordo che la chiesa è buona, molto ben fatta, poi trattato diversi elementi in questo momento, poi forse nella difesa sei stato un po' più nervoso, poi abbiamo detto qualche volta che secondo il canone, non secondo te, secondo il canone cosa dice il canone? Questo è l'atteggiamento fondamentale di canonisti, la chiesa insegna tramite questa parola, questo canone, questa norma, forse condividiamo come i colleghi canonisti questo atteggiamento fondamentale, ma eccetto questa cosa che non toglie il valore della tesi, bene? Il nostro giudizio è positivo, hai difeso molto bene e il titolo di dottorato è collegato con la pubblicazione di tesi dottorale, quindi quanto prima spero che sarà pubblicata la tesi, il nostro giudizio positivo è a nome della facoltà di diritto canonico, a nome mio personale del canone, ti ringrazio per questo lavoro che è un grande contributo alla chiesa che aspetta un contributo di questo genere, auguri! Grazie mille, grazie mille, grazie mille! Grazie mille, grazie mille!